Dopo la passione e le emozioni in pista io volevo ringraziare Giacomo e Luca per questa iniziativa per la nostra famiglia, per il progetto Ospedale Amico. Da oggi metteremo all'asta questa TZ250 che oggi il collezionista di Bologna ha regalato. Grazie per essere testimoni di questa attività, io vi chiedo di siglare la moto. Grazie Giacomo e grazie Luca. Il piacere è sempre una bella cosa, quindi fare beneficenza e aiutare è sempre bello, quindi noi l'abbiamo fatto con grande amore e grande passione. E questo è soltanto l'inizio di una delle tante iniziative da ora in poi, grazie a tutti. Grazie a tutti.